Ciao a tutti e benvenuti nel nostro canale. Si è verificata una triste notizia nel mondo della televisione siciliana. È scomparso un noto conduttore italiano. Nelle scorse ore, Giorgio Fratantonio ci ha lasciato. Durante gli anni 80 e 90, ha presentato diverse trasmissioni su alcune reti televisive locali siciliane, tra cui video mediterraneo. Il conduttore ha combattuto contro una malattia fino alla fine, come riportato da QDS.it. Fratantonio è deceduto nella sua città natale, Modica, in provincia di Ragusa. Era profondamente legato a Modica, dove risiedeva. Era un volto storico della televisione locale Iblea. Il conduttore è venuto a mancare all'età di 73 anni, dopo una lunga battaglia contro un tumore ai polmoni. I funerali di Fratantonio si terranno mercoledì 17 maggio alle 10, presso la chiesa madre di San Giorgio a Modica. Iscrivetevi al nostro canale e attivate la campanella per rimanere aggiornati su tutti i futuri contenuti.